lezione base di grafologia utilizziamo questa lezione per vedere i concetti di misurazione della scrittura a partire dalla croce grafologica l'unità di misura in grafologia e l'occhiello l'occhiello è il cerchietto alto più o meno un corpo di scrittura variabile come dimensione da persona a persona ognuno comunità di misura avrà il suo occhiello per la sua grafia mentre si scrive ci si protende da sinistra verso destra a sinistra troviamo quindi la zona relativa al passato a destra quella relativa al futuro mentre scriviamo verso l'alto la nostra mano distende i muscoli e quindi si allontana dal corpo si va verso quindi una distanza da se stessi verso un piano più mentale ideale quando invece avviciniamo la mano al corpo per scrivere gli allunghi inferiori chiudendo la mano a pugno andiamo verso una concretezza un piano più pulsionale istintuale in base quindi alla croce grafologica abbiamo una zona passata dove esiste già una scrittura una zona futura dove non esiste ancora verso l'ignoto lo stesso tipo di concetto si può applicare alla singola lettera in base all'occhiello si fanno le misurazioni tra una parola e l'altra detta tra parole la distanza tra una parola e l'altra e con gli allunghi inferiori e gli allunghi superiori si fa la misurazione occhiello per occhiello 1 2 3 4 in alto 1 2 3 o in basso di quanto la persona si protende verso il basso o verso l'alto quando scrive oltre al corpo di scrittura il corpo di scrittura e quindi la zona dell'io la zona del se la zona vera e propria dove la persona esprime se stessa nel suo egocentro prendendo in considerazione questi concetti con il singolo occhiello mentre scriviamo stiamo ripercorrendo il nostro corpo come se fossimo davanti ad uno specchio davanti uno specchio questa è la nostra zona destra del corpo e questa è la nostra zona sinistra questa è la zona alta e questa è la zona bassa man mano che scriviamo verso il basso andiamo verso i nostri organi viscerali man mano che andiamo verso l'alto andiamo verso i nostri sensi mentali